La legge che consente l'eutanasia per i minori non è stata ancora definitivamente approvata, ma fa già discutere. Undici anni dopo aver depenalizzato la dolce morte, la Commissione Giustizia e Affari Sociali del Senato belga ha approvato il provvedimento che consente ai bambini incurabili di qualsiasi età di scegliere di mettere fine alla propria vita. Alcune persone, dice questa dottoressa, senatrice del partito Nuova Alleanza Fiamminga, sostengono che la scelta sia tra l'eutanasia e le cure palliative, ma non è così, è soltanto un'opzione finale. Nel caso in cui un minore in uno stadio terminale dica ho troppo dolore e non c'è modo di alleviarglielo, vorrei morire. Questa è una possibilità che diamo, ma solo in alcune circostanze. Stiamo parlando esclusivamente di minore, dice questo senatore cristiano democratico, contrario al provvedimento, che sono alla fine della loro vita. La domanda che poniamo è se in quel momento dobbiamo sottoporla a un ulteriore stress psicologico. Nei prossimi mesi il testo verrà sottoposto al voto del Parlamento, ma l'approvazione è praticamente certa. In Europa soltanto i Paesi Bassi consentono l'eutanasia per i bambini, ma il limite minimo di età è fissato a 12 anni.